Uh, ce ne sono ben... No, 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 ok, per quale motivo sono in F5 non lo so, però l'abbiamo ucciso... Ciao a tutti i miei nani da giardino e benvenuti in questo nuovissimo video delle Bedwars. Oggi mi trovo in compagnia di qualcuno, di qualcuno completamente invisibile, sono in compagnia dell'uomo invisibile. No, non è vero, mi trovo nelle Bedwars duo, perché semplicemente non mi andava di fare le Bedwars da solo, e ho pensato, ma sì, dai, mi vado a trovare un bel compagnetto e gioco con lui, sperando che sia forte abbastanza da poter vincere questa partita insieme a me, altrimenti non fa niente, anche se non dovesse essere forte, ci penso io a portarla alla vittoria, perché ragazzi, mica pizzefichi, stiamo parlando di un imperatore qua, non stiamo parlando di nessun altro, quindi citiamo subito una bella mossa per prenderci tutti quanti i diamanti al volo, in questo modo, 3, 2, 1, tutti i nostri, perfetto, e tu dove pensi di andare, eh, caro rosso? Dove pensa... ti posso... guarda che ti uccido, eh, guarda che... ok, ti uccido, facciamo così, papappero, ora, uccidiamo pure lui se ci riusciamo, ma prima gli dobbiamo rompere il letto, quindi ora gliel'abbiamo rotto, perfetto, no, non sono riuscito a ucciderlo, ma non importa, perché intanto l'ho lasciato a due cuori, ma soprattutto gli abbiamo rotto il letto e il suo compagno era praticamente morto, quindi dovremmo avere il predominio della loro isola, ora, io potrei anche andare contro casa loro, alla velocità della luce, e ucciderli, perché tanto, chi se ne frega, non hanno più il letto, ragazzi, non rischio niente io, io non sto praticamente rischiando niente, guardate, lui mi vuole buttare giù a tutti i cosi, ma dove pensi di andare? Ok, l'abbiamo ucciso e il suo compagnetto è uscito, bene, quindi ne è valsa veramente la pena, ragazzi, ne è valsa la pena di brutto riuscire a ucciderli, e spero soltanto che abbia messo i diamanti qua dentro, infatti lo sapevo, oh mio dio ragazzi, gli ho sgamato la tattica, gli ho sgamato la tattica, lo sapevo che stava nascondendo qualcosa, c'era un bottino là dentro, ne ero sicuro al 100%, e lo abbiamo trovato bene, molto molto bene, quindi ora non dobbiamo fare altro che, uh ma ci abbiamo un fan in partita, ci abbiamo un fan che mi chiede lo screen, allora noi ci prendiamo subito una bellissima sharpness, perché è potentissima, ci abbiamo anche dei blocchi leggermente migliori per proteggere il nostro letto, quindi li sperchiamo un pochettino qua in questo modo, tanto per, perché alla fin fine ragazzi, ce li hanno regalati, io non li ho di certo pagati questi blocchi, e ci dobbiamo anche dare una mossa per andare immediatamente al centro a prendere gli smeraldi, perché non va bene che gli altri sono già al centro e noi ancora no, che siamo in ritardo alla festa, noi non siamo mai in ritardo, un imperatore non è mai in ritardo, arriva sempre quando vuole arrivare, allora ci sono degli smeraldi qua per me, no, se li sono fregati tutti, chi se li ha fregati, se li ha fregati mica questo verde, sicuramente è stato lui, guardalo, io lo vedo già, lui che si sta fregando tutti quanti i miei materiali, e là nel frattempo che combattono, oh mio dio che sta succedendo? Vabbè, mentre loro combattono, io nel frattempo mi prendo tutti quanti gli smeraldi, quindi ne abbiamo uno, due, tre, e quattro, perfetto, adesso possiamo tornare a casa nostra, sperando che nessuno ci stia venendo contro, no, sembrerebbe che nessuno ci stia dando fastidio, noi non dobbiamo fra l'altro che buttarci immediatamente nel ponte dei diamanti, ci muoio se mi butto qua, no che non ci muoio, ok, mi prendo tutti quanti i diamantini, e ora abbiamo tre diamanti, no, tra non molto mi posso prendere il quarto, quindi ragazzi ne vale proprio la pena, e ce lo prendiamo, e ci sono la i rosa nel frattempo, non va bene, non va bene che ci siano i rosa a casa dei rossi, perché potrebbero venire subito qua da noi e ucciderci e disturbarci, ecco vogliono venire infatti, quindi io adesso sapete che faccio, attenzione, attenzione, oh mio dio il mio compagno non se ne è accorto, ci abbiamo qualcuno dietro, ci abbiamo, no, 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 ci abbiamo visite, ci abbiamo visite, mi prendo subito lì il pull, ok, l'ha scacciato via, perfetto, ci prendiamo una bella spada in diamante, e ora voglio proprio vedere chi riuscirà a fermarci, ci abbiamo rigenerazione, spada in diamante e tutto quello che ci serve per vincere questa partita, quello vuole venire, vedete che vuole venire, eh sì dai vieni pure, vieni pure, ti aspetto, ti aspetto, combatteremo, mi prendo anche una bellissima trappola, così appena viene qua io subito già lo vengo a sapere perché mi spunta il messaggino, e ci abbiamo un giallo fin troppo ficcanaso qua, eh questo vuole venire contro di noi ragazzi, lo vedete che vuole venire, questo vuole assolutamente venire a tutti i costi, ma tutti e due vogliono venire, ci abbiamo sia il rosa che il giallo, mi spiace ma a rosa io non gli posso dare assolutamente lo screen, per il semplice fatto che siamo nel bel mezzo di un combattimento, quindi non si fanno queste cose, mentre si combatte, si combatte e basta, non si pensa agli screenshot, ti saluto nel video comunque se lo stai guardando, ci prendiamo subito degli altri blocchi, ora, è una mossa rischiosissima quella che voglio fare, oh, 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 tu dove pensi di andare esattamente? Dove? Si è salvato? Ah no, non si è salvato per fortuna, dicevo infatti, eh ragazzi, mi ero preoccupato un secondo, ho pensato ma che sta facendo questo? Dove pensa di poter andare qua? Quando c'è Kendall in partita, lui pensa di poter fare i ponti e arrivare a casa mia? No, 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 ciccio, hai sbagliato, hai sbagliato di brutto pure, ci abbiamo due diamanti, che ci faccio con due diamanti? Fatica del minatore, ma sì dai, visto che abbiamo ancora il letto, ci prendiamo la fatica del minatore, dobbiamo stare veramente attentissimi adesso a questi gialli, perché i gialli, come vedete, cercano in tutti i modi di venire a casa nostra, il mio compagno comunque è sveglio, o almeno così sembra, e così spero, sono un altro, e diamoci subito una mossa anche a fare un ponte verso il centro più veloce, in modo tale che se devo tornare a casa lo faccio subito come Spiri Gonzales, voi ragazzi soprattutto dovete fare una cosa come Spiri Gonzales, dovete lasciare un mi piace a questo video, dovete essere velocissimi nel farlo, perché avete solo due secondi, tra due secondi non lo potete più lasciare, quindi uno, due, ok, spero che l'abbiate lasciato tutti quanti, perché altrimenti ragazzi vuol dire che non lo potrete mai più lasciare, ci prendiamo, uh, ce ne sono bene, no, 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 ok, per quale motivo sono in F5 non lo so, però l'abbiamo ucciso nonostante ero in F5, bene, siamo rimasti soltanto con mezzo cuore, e non mi ero assolutamente accorto che lui fosse dietro di me, ora dobbiamo rigenerare la vita, quindi non ci dobbiamo fare assolutamente del male, e dobbiamo prenderci anche una bella corazza in diamante, perché altrimenti qua ragazzi siamo fritti, qua siamo fritti come delle patatine fritte, quindi ora io posso scendere senza farmi del male, così, in questo modo, perfetto, mi sono fatto un ponte bello, comodo per tornare a casa nostra, e con il ponte ci possiamo prendere, uh, aspetta, per quale motivo c'era un blocco rosa là? C'era un blocco rosa, la cosa non mi piace, non è che c'è qualcuno a casa nostra, c'è un intruso forse? Spero proprio di no, ci prendiamo un bel piccone, un altro piccone, un altro piccone, un altro piccone, poi ci prendiamo anche una bella accetta, un'altra accetta, un'altra accetta, e poi basta, va bene così, Ok, l'accetta in ferro ci basta e ci avanza, dobbiamo stare molto attenti ai gialli, perché i gialli, come vedete, sono super agguerriti, eccolo, guardalo lui, pensava che io non l'avessi visto, invece io ti ho visto, io ti ho visto e non ti lascerò di certo arrivare qua a casa mia, spero che il mio compagno adesso, uh, eccolo, eccolo, oh, è caduto, è caduto, ma com'è affatto a cadere? Ma non l'ho toccato nessuno, ma com'è possibile che è caduto? Così come un pollo da solo, va bene, meglio ragazzi, molto, molto, molto meglio, Adesso dobbiamo stare attenti sempre ai rosa, perché cercheranno di venire a combatterci, e questa volta non mi farò trovare impreparato, non sarò in F5 nel combatterlo, no, 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 questa volta combatteremo armi pari, spero soltanto di trovarlo adesso, prima che si equipaggi troppo bene, perché mi è sembrato un player molto forte, sicuramente sa quel che sta facendo, eccolo, là abbiamo uno di loro, e l'altro dov'è invece? L'altro non ne ho la più pallida idea, forse è sopra di me, probabilmente è sopra di me, però noi non... oh, dov'è? Non lo vedo, beh io teoricamente potrei anche andare a casa loro adesso, eh, un ponte c'è, sì, c'è un bel ponte, eh no, io gli posso andare come contro? Eh sì, gli posso andare contro ragazzi, siete pronti? Andiamo contro? Andiamo contro casa loro? È una mossa rischiosa, è una mossa molto molto rischiosa, però si può fare, si può fare, devo semplicemente fare un saltino qua, ok, ora mi sono fatto veramente molto molto male, non c'è nessuno a casa dei rosa, quindi è il mio momento, ne devo approfittare adesso, mi devo dare una mossa, andare subito subito a casa loro e rompergli il letto, perché come avete visto ragazzi, questo sa sicuramente il fatto suo, è abbastanza bravo nel giocare, ora lo dobbiamo spedire subito via, ok, in questo modo, ora dobbiamo combatterlo sperando che non mi butti giù, no, 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 non mi butta giù, ok, abbiamo un piccone, gli rompiamo il letto, oh, credo che ce l'abbiamo fatta, ora lo potremmo, lo dovremmo poter eliminare senza troppi problemi, anche se lui adesso c'ha il vantaggio, però ce la facciamo, ce la facciamo senza morire, sì, ce l'abbiamo fatta e ci prendiamo subito subito, oh mio Dio, perché ho pochissima vita, una Golden Apple e me la mangio al volo, così rigenero, ok, ne è decisamente valsa la pena andare contro di loro in quel modo, perché ora non hanno più il letto e una delle minacce peggiori in assoluto in questa partita è stata eliminata, quindi ora dobbiamo semplicemente stare attenti ai gialli, perché i gialli sono tosti o almeno i gialli cercano di venire contro di noi in continuazione, ci hanno già provato quattro volte ragazzi, e noi non glielo possiamo lasciare fare, non gli possiamo permettere che ben quattro volte questi vengano a casa dell'imperatore, io mica li ho invitati, voi li avete invitati? Spero proprio di no, perché sinceramente non mi danno tanta allegria quei gialli, allora, ci abbiamo abbastanza blocchi per, non proprio, non abbiamo tantissimi blocchi, però dovrebbero bastarci comunque, senza cadere, ok, perfetto, e ci stanno provocando, hanno appena scritto, venite a prenderci Blu, ah sì, tu pensi che io abbia paura? Tu pensi che Kendall... oh, c'è qualcuna a casa nostra, ok, io non la posso più difendere, spero soltanto che il mio compagnetto sia sveglio abbastanza e la stia difendendo per bene, perché adesso io non posso più fare niente, tra l'altro ho messo anche molti blocchi nell'ender chest e non ho abbastanza, uh, però posso fare così, posso fare così, avvicinarmi a casa loro intanto, perché forse non si sono accorto che sono qua, se ne sono accorti? No, mi sa che no, no, non se ne è accorto, non se ne è accorto, quindi diamoci una mossa, dobbiamo essere super veloci, scaltri e silenziosi, ragazzi, ok, ce la stiamo facendo, zitti, 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 dobbiamo fare il giro e dobbiamo cadere, oh, di nuovo, sono entrati di nuovo a casa nostra, non ci posso credere, mi ha preso, non so cosa mi ha tirato addosso, credo un arco, mi ha preso con l'arco, sono abbastanza sicuro, mi ha, cioè, se ne è accorto all'ultimo secondo, quando io ero praticamente a casa sua, cosa pensi di fare tu? L'avete visto quello che era là? L'avete visto che stava cercando di romperci tutto quanto? Ma come si permette questo? Come si permette questo manigoldo? Ci prendiamo un'altra trappola e un'altra fatica del minatore, e ora non dobbiamo fare altro che andare a casuccia dei gialli, sì, ora gli dobbiamo fare capire chi è che comanda qua. Il mio compagno comunque sembra essere molto sveglio, perché fino ad ora ha difeso alla perfezione praticamente la nostra base, non li ha mai fatti entrare, ha sempre messo le trappole al momento giusto, perfetto, quindi sono contento di avere un compagno sveglio una volta ogni tanto, e non dobbiamo fare altro ora che distruggere la casa dei gialli. Mi dispiace per te, ma adesso è arrivata la tua fine, visto che non c'è più nessuno a casuccia, io gli rompo il letto, e adesso sei stato eliminato. Ops, mi dispiace! Ma Kendall ha vinto la partita, e guardate quanti materiali ci aveva! Oh mio Dio, che bottino! Ma che è la partita dei bottini questi? Scriviamo GG, ovviamente, perché io e il mio compagno abbiamo vinto 2007 Elias, e soprattutto saluto anche il fan che ha giocato questa partita, che abbiamo dovuto uccidere, perché era un mio nemico. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, mi raccomando voi, lasciate un bel mi piace, perché io lo so che alcuni di voi se lo dimenticano, altri magari non gli va. Ragazzi, non ci vuole niente, lasciate un bel mi piace, condividete questo video con i vostri amici, troverete il mio link di Instagram qua sotto in descrizione, quindi andatemi a seguire subito, dal vostro Kendall Imperatore è tutto, e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Ciao!